Dopo quanto è accaduto ad Altavilla Milic e tutto quello che sta avvenendo fuori sulle sette sataniche e su come le sette sataniche possono far presa su famiglie intere, un altro filone del dibattito che si è aperto, adesso stanno venendo fuori dall'indagine situazioni piuttosto complesse, penso per esempio al coinvolgimento, dicono i magistrati anche della ragazza diciassettenne che si è salvata e che a quanto pare era complice secondo una prima ricostruzione della magistratura e adesso completamente sconvolta è stata inviata in una casa per le cure necessarie e dopodiché sarà a disposizione della magistratura minorile. Ma il tema delle sette sataniche e di come le sette sataniche riescono a incidere sulla psiche delle persone è sicuramente un tema che si è aperto già tantissimi anni fa, tempo fa la dottoressa Tinelli che è una psicologa che presiede il centro studi sugli abusi psicologici ed è consulente dell'associazione italiana delle vittime delle sette, ha detto che accostarsi alle nuove sette è molto facile e dopo il covid ancora di più perché riescono a entrare in casa attraverso la rete, attraverso gruppi sociali tematici, incontri online, addirittura de plian e ci sono promesse, prospettive più varie secondo la dottoressa Tinelli, benessere fisico e spirituale, la crescita personale, il potenziamento intellettuale, il successo professionale. Quindi il secondo filone di dibattito al di là della violenza conclamata di tutto quello che è stato detto è se il web agevola i contatti tra queste persone che inneggiano al demonio e chi invece inconsapevole si ritrova a fronteggiare anche questa sorta di indottrinamento. pare proprio di sì perché anche le due persone conosciute appunto dall'uomo che ha compiuto questo insano gesto le ha conosciute sui social network e da lì ha cominciato a coltivare un rapporto che poi è sfociato in quello che la magistratura sta indagando. quindi è necessario anche creare una corteccia che sia sufficientemente valida, robusta per cercare di respingere questo tipo di pressioni che possono venire dalla rete e quindi va ancora di più evidenziato quello che sta accadendo e soprattutto bisogna fare una serissima attività di prevenzione per evitare che accadano cose assurde come quelle che sono accadute ad Altavilla Milice che giorno dopo giorno ci riservano sempre più sorprese negative.